Una nuova compagnia aerea collegherà la Sicilia con alcuni dei principali aeroporti italiani. Un'iniziativa resa possibile recita la nota sul sito ufficiale della Regione Sicilia grazie all'intervento del Presidente della Regione Renato Schifani che fin dall'inizio del suo mandato ha posto il tema del carovoli nell'agenda politica del suo governo. Il nuovo vettore che avvierà i collegamenti tra qualche settimana è AeroItalia, compagnia italiana a capitale interamente privato. Le nuove rotte sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleanse in cui erano presenti, fra gli altri, il Presidente Schifani, l'assessore all'infrastruttura Alessandro Arricò, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'amministratore delegato della compagnia Gaetano Francesco Intreri insieme a Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo Calcio che si avvale dei voli charter per i viaggi della squadra verso il continente. Oggi, è evidenziato Schifani, è una bella giornata per tutti i siciliani perché interrompiamo il duopolio che porta in alcuni periodi dell'anno all'aumento spropositato dei costi dei voli tra la Sicilia e i principali aeroporti italiani. Abbiamo lavorato in silenzio nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini e oggi c'è una parziale ma significativa soluzione. Speriamo che altri vettori possano seguire l'esempio di AeroItalia. Abbiamo salutato con particolare favore questa iniziativa, ha aggiunto il Sindaco Lagalla, perché il caro voli continua a incidere negativamente sui flussi turistici diretti su Palermo che però, nonostante la crisi economica degli ultimi anni, continuano a crescere segnando buoni margini di miglioramento. AeroItalia ha iniziato l'attività nel luglio dello scorso anno operando con voli charter, oggi collega a destinazioni italiane ed europee.